La ventitoresima terrennale Annon Annons, dedicata a ciò che non sappiamo di non sapere, si è chiusa a Milano l'8 gennaio e ha fatto registrare numeri importanti. Dalla metà di luglio i visitatori dell'esposizione sono stati infatti oltre 330 mila, in significativo aumento rispetto all'edizione precedente, datata 2019, che si era assestata intorno a 281 mila. Siamo molto contenti, non solo perché il numero dei visitatori è stato più alto del previsto, ma perché si è capito il messaggio, cioè che terrennale voleva aprire una riflessione sull'incertezza e sulla difficoltà oggi di interpretare il futuro. L'abbiamo fatto con artisti, con scienziati, con studiosi di discipline molto diverse, chiamando paesi che sono anche lontani dal nostro e facendo diventare terrennale una vera scuola pubblica sull'ignoto e sul futuro. L'aspetto più interessante del progetto è stato proprio l'indagine ai confini della conoscenza, il muoversi con diverse mostre e padiglioni nazionali sul limitare dell'incertezza, andando a caccia di nuove domande invece che di più o meno facili risposte. Oggi il problema non è solo avere l'ansia di dare risposte, ma cercare di costruire bene le domande. Le domande sono domande sul futuro della nostra specie in una situazione in cui il cambiamento climatico sta mettendo a rischio la sopravvivenza. E poi la guerra, le crisi finanziarie ed energetiche, un mondo sempre più difficile da decifrare. Su questi temi la terrennale vuole continuare a impegnarsi. Andremo avanti a discutere di questo e stiamo già preparando la terrennale del 2025, che sarà una terza tappa in questo viaggio verso l'ignoto, che però facciamo con le spalle larghe di sapere che attorno a noi ci sono pensatori, studiosi, progettisti di tutto il mondo. Perché il mistero è sempre più vasto delle conoscenze acquisite ed esplorarlo è forse l'unico modo per provare a capire un po' di più l'universo, ma soprattutto noi stessi.